Più di un'ora senza l'ombra di un gol, poi si accende la partita, si scatena soprattutto il Picerno. Apre il suo campionato di Serie C, rifilando un convincente per Antonio 4-1 sul sintetico del Donato Curcio, Lavellino, una delle principali candidate al salto in Serie B. Esordio da urlo per Volpicelli, ufficializzato nei giorni scorsi, doppietta per il neoattaccante dei Lucani, pur essendo partito dalla panchina. C'è Sant'Arcangelo dal primo minuto per i padroni di casa, conclude in apertura su cross dalla destra di Pagliai, facile per Gianna Rilli. La replica della squadra di Michele Pazienza arriva al quarto d'ora a rosso su traversone di Cancellotti, non becca lo specchio da posizione sicuramente interessante. Due minuti dopo l'estremo degli Irpini, attento e reattivo sulla sventola di Petito. Prova ad illuminarsi Bomberchico Patierno, il capocannoniere dello scorso girone C di Serie C. Non incide però con il Mancino, 0-0 all'intervallo. Ripresa, molto più scoppiettante. Picerno vicino al vantaggio competito su sponda di Sant'Arcangelo. Gianna Rilli alza la traiettoria, passano, i minuti non cambia il parziale ma il Picerno spinge sull'acceleratore. Dentro Volpicelli per Petito, poi arriva il momento di Pagliai. Prende coraggio, si sistema la palla sul destro ed al limite. Sorprende così un incerto Gianna Rilli. 1-0. Giganteggia in seguito la squadra di Francesco Tomei sul cross di guerra. Volpicelli prima colpisce una clamorosa traversa, poi dopo il tentativo di Vitali. Trova il tapin del raddoppio. 2-0. Non è ancora finita perché Lavellino prova subito a riaprirla. Somma è attento sul tentativo sul primo palo del neentrato Redan. Frascatore poco dopo trova il clamoroso salvataggio di Allegretto. Insistono gli ospiti. Rigione di testa non inquadra lo specchio. Dalla parte opposta invece, cinico e spietato, si rivela al Picerno che la chiude proprio con Volpicelli. Doppietta ed esordio da sogno per lui. Sembra stragata per Lavellino la porta di su ma superlativo prima su Gori e poi su Redan. Il portiere dei padroni di casa si arrende poi sul colpo di testa di Gori sugli sviluppi dello stesso angolo. 3-1. Lo stesso 35 degli ospiti centra poco dopo un clamoroso palo. Invece è Vitali dalla parte opposta. A completare il poker di su e a fissare il punteggio sul definitivo 4-1 del quinto ed ultimo minuto di recupero. Vince il Picerno che domenica prossima proverà a confermarsi in trasferta contro la matricola Trapani. Lunedì 2 settembre Lavellino invece giocherà in casa. Il derby campano contro il Giuliano.